Un investimento di 8 milioni di euro con l'obiettivo di creare un polo di eccellenza nel campo dell'enologia. Il progetto porta la firma della provincia di Avellino. Entro fine anno il bando di gara con il 2016 partiranno i lavori. La struttura di Viale Italia, sede del corso di laurea in enologia, verrà riqualificata e dotata di nuove aule, strutture, laboratori e cantine. Ciò consentirà non solo di ospitare più studenti ma anche di aggiungere la specialistica alla triennale così da rendere completa la formazione. Per tutti è un sogno che si avvera. Avellino e l'Irpinia diventano la capitale del vino. Il progetto è stato illustrato questa mattina presso la Sala Grasso. Il polo enologico è il primo dei cinque che la provincia ha intenzione di realizzare sul territorio. Noi abbiamo voluto lanciare questo programma che si chiama appunto dei poli scolastici di eccellenza in provincia di Avellino che prevede investimenti per 26,5 milioni di euro, tutti dal bilancio provinciale, per darvi un'idea il governo su scuole innovative ha stanziato a luglio 300 milioni di euro, 29 milioni alla Campania. Quindi noi siamo praticamente da soli, riusciamo a fare per la nostra provincia un grandissimo sforzo economico e finanziario che ovviamente parte da Avellino e parte da questo polo che già ospita i corsi universitari con l'Università degli Studi Federico II di Napoli che stanno andando molto bene, prevedono oggi già la presenza di studenti che arrivano dalle altre regioni d'Italia, ma dobbiamo rafforzare innanzitutto l'Istituto Agrario De Santis attraverso nuove aule, laboratori, in modo particolare un rafforzamento dei laboratori che sono in questo momento, che necessitano in questo momento di un potenziamento e il progetto che presentiamo oggi è un progetto di 8 milioni di euro che è stato, ripeto, già finanziato e che entro il 31 dicembre vedrà la pubblicazione della gara d'appalto. Quindi abbiamo tempi strettissimi perché nei prossimi tre anni, quindi 2016, 2017 e 2018, vorremmo completare questo progetto di investimento. Nel completamento di un qualcosa che è partito come sogno diversi anni fa e effettivamente, spero, nel giro di un anno si completi, che consiste nella realizzazione appunto di una parte applicativa, quindi un centro di microvinificazione e il potenziamento di laboratori di ricerca. Questo ci consentirà di completare per bene il percorso della triennale, perché come sapete con la riforma universitaria nelle triennali si è cercato di dare un peso maggiormente professionalizzante al corso di studio e quindi con l'avestimento della cantina sperimentale si potrà fare tutto ciò, col potenziamento degli studi di ricerca potremmo partire dall'anno prossimo con la laurea specialistica e biennale e quindi completare l'intero percorso. Questo è un aspetto importante, ovviamente per Avellino, per la provincia, per la Valle del Sabato, ma per tutta la Campania e non solo, perché come ho detto spesso noi sappiamo e tutti sanno delle grandi potenzialità di questo comparto vitivinicolo campano, però ovviamente ci vogliono delle persone molto specializzate nel portare avanti i progetti. Non è sufficiente fare solo vino di qualità oggi, ma è necessario appunto conoscere gli aspetti di marketing, economia, promozione, le lingue e quindi andare in giro per il mondo a comunicare non tanto il vino, dico, ma i nostri territori. Grazie a tutti.